buonasera buonasera allora siamo venuti allora facciamo un attimo subito la presentazione e poi ci colleghiamo e allora facciamo una condivisione perché è importante questa cosa è condivido anche sulla l'altra pagina non dividi non dividi si sente allora facciamo un attimo subito perfetto perfetto commenti chi vuole commenta e commenta allora io ho tanto prima che si intanto lo vedo quando si colleghi dunque volevo fare una piccola precisazione allora stasera parleremo di un argomento molto importante l'argomento che purtroppo ci riguarda tutti quanti però voglio farlo quando c'è anche soprattutto la dottoressa e dunque buonasera buonasera a te allora che volevo dire volevo dire che avete appena sentito non avete appena sentito che le mascherine per la riapertura saranno tantissime saranno tantissime le spese saranno tantissime i soldi non arrivano e l'unica cosa però scusate io non vedo non vedo non vedo non vedo e saranno tantissime però purtroppo i soldi non arrivano allora dicevo ma ma non era meglio che queste mascherine fossero date e no così regalate per tutto il periodo giusto per giusto per dire perché facendo due calcoli insomma eh sarebbe una cosa può un po' no allora vediamo un po' ok sì bene la dottoressa vedo che c'è già è già in in diritto all'arrivo quindi così tra qui non la vediamo eh poi c'è la problematica come ho detto prima delle e purtroppo che i soldi ancora non arrivano i soldi non arrivano io sono in stretto contatto con eh con il mio commercialista che mi dice che ancora sono in studio per capire questa cosa qui noi aspettiamo noi aspettiamo per chi si è collegato beh basta leggere qui sotto qui ecco stiamo aspettando di eh parlare eh con una dottoressa perché stasera ehm parleremo proprio di eh di ehm cose molto importanti ecco stasera parliamo di coronavirus eh quindi ehm stiamo aspettando il collegamento con la dottoressa e nel frattempo vi stavo dicendo che eh tante persone stanno scrivendo avremo ehm domani un altro appuntamento molto importante che parleremo con un presidente eh un altro presidente di una eh di di confesercenti di Montedera quindi ehm cercheremo di 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 no di fare il punto della situazione però eh ancora oggi eh nessuno che interviene oggi abbiamo girato noi in servizio per il blitz eh che vedrete a giorni oggi che è la giornata mondiale dell'ambiente la salvaguarda della sinistra abbiamo trovato purtroppo ancora cose allucinanti e la cosa che fa pensare nelle giornate mondiali qua che si fa si abbattono gli alberi cosa si fa per incentivare qui la nostra amministrazione cosa fa va contro va contro taglia l'ambiente e le alberi fa tutto fa tutto contro non capiamo veramente quanto veramente tiene al nostro ambiente ragazzi io non lo so allora vediamo vediamo un pochino dovrebbe essere a momenti il il collegamento il collegamento vediamo un pochino eh allora 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 qui però per ora mi funziona tutto mi funziona tutto speriamo che duri fate qualche domanda se voi se voi volete io sono qui voi parlate io io vi rispondo se volete parlare vorrei parlare eh parlerò io via andremo a fare dei servizi a Ponte d'Era tra poco appena sempre verso il 4 andremo su a Ponte d'Era perché così conosceremo anche altre persone eh grande riapertura grande eh tutti che si attivano ma però vi volevo di chiedere una cosa ma avete mai pensato quanto costano le strutture per eh difenderci dalle 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 d 600 euro per l'aiuti che poi le riprendono, no? In verità, se cazzo e mazzi, non ci fa niente perché ci devi comprarti questa roba qui. Quindi è un po' il controsenso, no? Allora, notifica, vediamo un po' chi è. Allora, ok, poi, allora, io non ci sto. Con calma ragazzi, lo spingete, arrivo, allora. Chi è? Sto cenando ora. Allora. È in diretta. Scusate, scusate. Ma che vuoi? Ma che vuole ora? Ma che vuoi? Io ti spacco il musa a te. Che vuoi? Cioè, sei in diretta. Ma sì? Ma io vedo il soffitto. Che vuoi ora? Che stai a fare? Eh, sto... Ti voglio nobbero per po' le palle, me ne puoi sapere, una volta mi rompo io. Ma vai in diretta, vai in diretta, mi vedi sulla mia pagina. E come sei? Ma mica posso l'acqua? Ti vedo mentre sei in diretta. Sì, sì, ma se voi ti invito, ti mando un link, devi pigiare e entri in diretta qui. Aspetta, eh. Ti abbasso, ti mando un link. Allora, passo, passo, passo. Vai, vai. Oddio, oddio. Eh, ragazzi, è così, è così. Allora, vediamo. Intanto rispettiamo la dottoressa. Mi vedono? No, ancora no. No, ancora no. Sì, è collegato? Dal link? No. Dunque, tocca chiamarlo dopo, perché se no... Allora... Scusate, tutta la diretta. Gabri, mi tocca chiamarti dopo perché ho la dottoressa in linea. Ti chiamo dopo. Giusto male, capire al mare come funzionano? Bisogna? Due metri, sono attaccate. Eh, sì. Ragazzi, io... Allora. Allora. Stiamo aspettando. Allora, ci si può fare perché l'ha fatto anche Silvio, quindi dovrebbe essere semplicissimo. Ah, no, aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Allora. Invita. Ah, aperta. Copia. Aspettate, eh. Aspettate che arrivo. Voi state qui, eh. Madonna, ragazzi. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. No. Ragazze. No, è saggio. Madonna. Ecco va. Incolla. Ecco. Allora, eccolo qua. Ecco. Eh, mi scusi, eh, dunque, gli ho inviato il nuovo link, scusi, il nuovo link su Messenger. Eh, ragazzi, eh, voi rimanete lì, eh, rimanete lì, rimanete lì, eh. Che ora si rientra. Rimanete lì. Tanto l'orario, eh, l'orario era questo. Allora, un po' se l'ha letto. Non si apre. Ma come, no? È impossibile. È impossibile. A me si ha, sì, dici, di sì. Strano, ma strano. Mannaggia. Mannaggia. Ragazzi, non ci sono dei problemi? Ci sono dei problemi? Oh, signore. Io non potrò cedere. Ma come? Allora. Allora, ti mando il link, quello giusto, perché questo qui è quello di ieri. Aspetta, te lo mando qui. Te lo ho mandato su Messenger. Allora, che situazione, ragazzi? Ecco. Madonna, è casino. Addio. No, che casino. Oh, aiuto. Ma come mai? Non va. No. Non funziona. Ma no. C'è riuscito... C'è riuscito... Silvio? Allora. Chiudiamo? Ripartiamo? Che devo fare? Lo so. Aiutatemi. Signore mio. Eccola, 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 eccola. Attenzione, attenzione. Bene. Ci abbiamo fatto, dottoressa. È stato molto complicato, molto. Eh, no, ti do scusa io perché ho fatto un po' di confusione oggi. Ho notato. Ho notato, Lorenzo. Perché ci abbiamo due o tre puntamenti insieme, intervista a quello, intervista a quello. Quando è la politica mi fanno sempre un po' di problematiche. No, tranquillo. Siamo riusciti, per fortuna. Bene. Allora, dottoressa, io prendo dal suo posto, dal suo video che aveva fatto ieri, molto interessante, a mio dire, che parlava un po' del discorso di dare un pochino una riconducibilità a queste, a questi decessi, no? Attivandosi con i mezzi che ci sono. I mezzi che ci sono, sono le autopsie. Sì, allora, intanto un attimo che sto cercando di far partire il video party perché qua oramai è il mio potenzio, eh? Vediamo se riesco a farlo partire. Ok. Un attimo. Se qualcuno mi dà un segnale, ok, dovrebbero vedere, anche gli altri, perfetto. Sì, allora, il mio video di ieri aveva un incipit un po' particolare perché diceva che era un video che apparentemente era fatto per caso, ma in realtà si riferiva a una vicenda reale di cui mi stavo occupando, che riguarda il decesso di una ragazza di 27 anni, è decesso dovuto molto probabilmente al SARS-CoV-2 e di cui non sto adesso qua a parlare anche perché ne ho parlato oggi su Radio Globo e ho postato sulla mia pagina, quindi cercate o da me o su Radio Globo con riferimento perché così evitiamo di ripetere dei doppioni. Il concetto che vale per questa ragazza che si chiama Gaia che anche per eventualmente altre situazioni che si possano essere create è appunto la necessità di procedere a un accertamento di tipo autoptico, considerato che in questo caso specifico di cui sto parlando c'è comunque a monte una denuncia della famiglia alla procura, ma in ogni caso le informazioni che si possono ottenere da pazienti deceduti sono fondamentali perché è l'unica cosa sappiamo di questo virus, sappiamo che c'è un recettore polmonare che permette l'ingresso del virus nelle cellule polmonari, ma abbiamo avuto anche già contezza di manifestazioni cardiache, di manifestazioni nel liquido cifralorachidiano, leggevo oggi che è stato isolato anche dalle lacrime di alcuni pazienti, è raccomandato anche l'analisi delle feci perché c'è anche una trasmissione a quanto pare orofecale, per cui bisogna ragionare in modo lucido sulle cose, è impensabile poter andare a effettuare un'autopsia su tutti i pazienti deceduti per covid, per cui bisogna comunque discriminare anche qui l'aspetto puramente medico scientifico da un'ulteriore necessità che è quella di fare indagini penali laddove sia stata fatta una denuncia per un presunto caso di malassanità che fino alla contraria rimane presunto, però in questo secondo caso l'autopsia serve sia a determinare con certezza la causa di morte che a individuare eventuali responsabilità qualora ci fossero. È evidente cosa che se di fronte a una ragazza di 27 anni ricoverata in una struttura riabilitativa in vista è vero di un trapianto di polmone per una patologia genetica che però ci indica anche che se questa ragazza era stata dichiarata idonea al trapianto aveva un'aspettativa di vita col polmone nuovo di un certo respiro insomma e quindi in questo caso, lo dico perché il video era riferito a questo caso con il mio video di ieri, trovarsi negata la possibilità di fare l'autopsia nonostante una richiesta specifica fatta da me in qualità di consulente mi lascia, per usare un eufemismo, perplessa. E ieri io ho fatto quel video perché volevo comunque riferirmi in generale al fatto che ci sono allora quali sono i profili strani di tutta questa vicenda, della vicenda Covid adesso parlo quindi la vicenda delle infezioni di SARS-CoV-2 che ancora a marzo si era tentato di introdurre una norma che impedisse, che rendesse praticamente non responsabili le strutture sanitarie e le scelte gestionali. Si era inizialmente parlato, ma era uno specchietto per le allodole, di limitare la responsabilità dei medici, quindi era stata venduta come norma per impedire che i medici oltre al lavoro pesante che stavamo vivendo fossimo anche gravati da questo aspetto, aspetto che a mio avviso non è tra l'altro coerente col dettato costituzionale, perché non si può decidere che a un certo punto una categoria non risponda più, ma in realtà il giochino che si voleva fare era quello di introdurre una non responsabilità, una causa di non punibilità per le scelte gestionali e amministrative. Io avevo tra l'altro intuito immediatamente perché faccio questo lavoro da un po', quindi oramai queste dinamiche, quando c'è qualcosa che non mi torna di solito perché c'è qualcosa che tocca, e questo tentativo è andato poi di pari passo con il problema delle case di riposo, delle RSA, altri Vult e tutte le altre, quindi indagini delle procure dal Piemonte alla Lombardia, all'Emilia-Romagna, tra l'altro nessuno ne parla, ma in Emilia-Romagna ci sono dati pessimi come in Lombardia oltretutto, e quindi mi era venuto il sospetto, chiamiamolo così, che si fosse deciso, non so a quale livello però, di non approfondire probabilmente più di tanto il discorso come muoiono le persone, come sono state gestite e tutto quanto. Allora, noi dobbiamo scendere i due momenti, il momento medico-scientifico e il momento giudiziale. Nel momento medico-scientifico non è accettabile, e questo lo dico da medico, non è accettabile che si dica che le autopsie non vengono fatte perché eventualmente spongono i medici che le devono fare a un rischio infettivo, anche qui per due ragioni. Uno, sono stati definiti i requisiti delle sale autoptiche da un documento dell'Istituto Superiore di Sanità, che non commento oltre perché anche sull'Istituto Superiore di Sanità ci sarebbe tanto da dire su come ha gestito tutta questa situazione dall'inizio fino a oggi, però ci sono... Si parla di irresponsabilità allora? No, allora... Sono po' di irresponsabilità? Allora, anche qui c'è una grande confusione perché per le autopsie si è detto, le autopsie, e qui sono d'accordo, vanno fatte in determinate sale settorie, quindi non le puoi fare nel primo ospedale che incontri, ma devono esserci delle sale settorie con dei requisiti di aereazione, di questione negativa, insomma tutta una serie di questioni che permette di proteggere l'operatore, il medico, l'anatomo patologo o il medico legale che fa l'autopsia. Quante sono in Italia queste sale? Questo purtroppo non te lo so dire perché il numero non lo so, ma sicuramente non ci sono in ogni ospedale o in ogni struttura, comunque era stato detto che la cosa importante era che si era detto che in presenza di questi requisiti, di queste sale settorie, non era etico e non era accettabile rifiutare l'autopsia, cioè tu non potevi dire come medico io non ti faccio l'autopsia perché non mi voglio infettare, fermo restando Lorenzo che noi stiamo lavorando tutti noi, io che faccio l'anestesista e intubo tutti i giorni, praticamente sono a pochi centimetri dalla faccia della persona, per cui anche qui non si possono sempre avere due pesi e due misure. Se i medici clinici si devono esporre a rischio di contagio, se c'è una necessità di fare l'autopsia, il medico che la deve fare si barderà, si vestirà, farà in modo di non infettarsi, ma non si può dire allora gli anestesisti e gli animatori sono sacrificabili e tutti gli altri no, nessuno lo deve essere. Ma detto questo e considerato il fatto che abbiamo la necessità di capire quali sono sul corpo gli effetti deleteri di questo virus, perché abbiamo avuto casi di miocarditi e con aritmie causate dalla presenza del virus con morti cardiache dovute alla presenza di questo virus, abbiamo già avuto documentazione di altre sedi oltre quelle polmonari e siccome tutti sanno che i farmaci su cui si sta puntando non sono solamente gli antivirali, ma sono anche i farmaci antinfiammatori o quelli che comunque agiscono sulla risposta infiammatoria dell'organismo, allora anche qui mi si deve spiegare come è possibile ottenere dei dati che scientificamente ci dicano qualcosa se non si vanno a studiare i poveri corpi di quelle povere persone che sono decedute e questo vale sul piano spettamento scientifico. Ma se poi ci spostiamo sull'altro piano che non è secondario, che è quello della responsabilità, allora a meno che noi non vogliamo retrocedere di centinaia di anni nelle garanzie, garanzie che sono comunque tutelate a livello costituzionale, adesso non voglio stare qua a dilungarmi ma sono garanzie tutelate a livello costituzionale, se c'è il sospetto di un omicidio colposo io da consulente non posso accettare che a fronte di una richiesta motivata di un medico rianimatore mi si dica no l'autopsia comunque non si fa e non mi si dia una motivazione che regga come dicevo oggi su Radio Globo da tre punti di vista, quello logico cioè mi devi dare una motivazione logica, scientifica e giuridica e non si può semplicemente dire no perché no o no perché covid, perché siamo sempre in ambito sanitario e se sono state gestite delle situazioni e io sospetto ce l'ho che in generale se siano gestite delle situazioni con un po' troppa sportività e cioè nel senso che la medicina è una, cioè la scienza medica è una e quello che si fa nei pazienti compatibilmente con i numeri, con il numero di persone contemporaneamente ammalate e con la gravità del quadro di partenza però io credo che una ragazza di 27 anni non possa essere lasciata con la febbre dal 14-15 di marzo valori emodinamici alterati, uno stato di coscienza che va peggiorando senza senza avere chiamato un anestesista di animatore se non praticamente a ridosso del decesso. Io non so se lo vede anche lei, Tania Marugi che è un avvocato penalista ci dice infatti serve una tutela legale in questi casi, ci sta dicendo. Sì ma non riesco a capire tutela legale rispetto alla famiglia? No no, la famiglia. No no no, cioè l'avvocato l'abbiamo ed è anche molto brava ovviamente l'avvocato si appoggia al consulente tecnico che in questo caso sono io ma in questo caso c'è anche una genetista bravissima che è Marina Baldi e quindi la nostra parte, la parte giuridica e tecnica di consulente, perché gli è stata negata? Non c'è stato detto il perché, è stata rigettata la nostra istanza peraltro risponde all'avvocato a questo punto io non ho neanche avuto in visione la cartella clinica la ragazza è morta da 32 giorni e oltre a questo non si sa dove sia il corpo, cioè la famiglia non sa dove fisicamente sia la salma. Peraltro io mi sono ritrovata a scrivere questa consulenza di notte perché era arrivato un documento, era un nulla ossa alla sepoltura che aveva fatto già intendere che non si volesse procedere all'autopsia e sono passati dall'8 di aprile quando io l'ho scritta a oggi che è il 22 in tutti questi giorni, noi non abbiamo saputo, è sì assurdo esatto, non abbiamo saputo nulla, nulla, per poi scoprire ieri che l'istanza in cui dicevamo calma fermi tutti, la Balanzoni come consulente tecnico necessista di animatore, si gli ha spiegato perché serve l'autopsia e voi adesso ci dite di no, ma qual è la ragione? Ma soprattutto i familiari non sanno dove sia la ragazza, dove sia il corpo. Allora io mi chiedo, possiamo accettare in Italia nel 2020, pur a fronte Lorenzo di una pandemia che nessuno nega, pur a fronte di una situazione drammatica, ma possiamo accettare che una ragazza di 27 anni sia trattata prima e attualmente anche ridotta così, perché secondo me, ma come cittadina prima ancora che come medico, non è qualcosa che si può sopportare e questo è un problema che si somma comunque a quello di cui dicevamo prima, della necessità di capire le cause. Tante persone che forse si rivedono in questa situazione qui, penso. Allora Lorenzo, io posso dire una cosa, faccio questo lavoro da un po', io e te ci riconosciamo anche perché abbiamo affrontato questioni da quest'estate particolarmente gravi, di cui poi mi sono occupata. Ecco, Chloe, per intenderci. Allora, io faccio questo lavoro da un po' e tra l'altro forte, diciamo così, della mia seconda laurea in giurisprudenza una sensibilità su certi problemi che è maggiore rispetto ad altri miei colleghi. Io non ho ancora sentito i miei colleghi parlare, ma questa cosa non mi meraviglia perché di solito sono io che parlo per prima, per questo karma che mi caratterizza. Però io penso che si sia un po' superato il segno, nel senso che un conto è non volere, come posso dire, spingere in determinate situazioni, cioè si inizia a dire ma i medici hanno chiesto agli avvocati di non fare cause contro i medici ed è sacrosanto. Oppure sappiate già tutti che stiamo vivendo una situazione d'emergenza che non si era mai vista prima e siamo d'accordo. Però laddove c'è il caso o quel numero limitato di casi, ma limitato o non limitato, anche questo sarà poi da definire, in cui ci si ritrova un cadavere che non si sa perché è cadavere. Tra l'altro, faccio un altro passo indietro, scusami, ma il tampone a quanto pare, perché ripeto i documenti sanitari non li ho, è stato fatto dai carabinieri oltretutto e comunque è stato fatto a ridosso della morte e alla famiglia non era stato riferito alcunché rispetto alle condizioni della ragazza, perché la famiglia per diversi giorni, mi pare 7-8, ha continuato a chiamare perché le visite erano state proibite proprio per i problemi di contagio e nessuno mai aveva detto che questa ragazza stava male e praticamente sono passati dal nessuna notizia al è deceduta. Allora, anche qui non si può dire che questa famiglia non abbia tutte le ragioni del mondo per volere capire che cosa è, ma umanamente io parlo, dal punto di vista umano io credo che tutti avremmo fatto la stessa identica cosa. Ora, trovandomi io per la prima volta devo dire, e questo è il mio 58esimo caso, non è che sono quasi tutti relativi a decessi oltretutto i miei, per cui ho la sufficiente esperienza per poter dire che c'è qualcosa che non mi torna. Che cosa sia ancora non l'ho capito, però non è una situazione lineare. Allora, se questo è l'esordio, oltretutto se partiamo da un procedimento penale di questo tipo, incardinato, in questo modo, che tra l'altro attualmente vede noi senza documenti, senza sapere dove è il corpo, allora io mi preoccupo. Mi preoccupo perché dico, ma siamo in Italia? Dalla cartella clinica? Che l'ha vista? Michele l'ho vista io? Cioè io non ce l'ho la cartella della clinica. E anche voi. Ah, beh, lì ce la vediamo. No, allora lì, Lorenzo, io non posso dire assolutamente nulla. Posso solamente dire che ho le spalle larghe e ho detto tutto su questi argomenti. Però ecco, diciamo che, ecco, essere, avere un atteggiamento, come posso dire, un po' stupefatto, dire oddio cosa sta succedendo, penso che sia il minimo. Tra l'altro, per fortuna, questa storia, anche perché, piccola polemica così, piccola parentesi, io non trovo giusto, cioè è una cosa che mi spiace fare, quella di rendere note situazioni o questioni che vanno affrontate nelle aule di giustizia. Perché un conto è che tu parli di un processo, quindi con tutte le garanzie, il diritto alla difesa e tutto di un processo che c'è già e che ha comunque una serie di garanzie. Un altro è che poi tu ti trovi di fatto costretto a rendere noto alla stampa, alle radio, ai social, come a te adesso, delle questioni, perché per sensibilizzare l'opinione pubblica e per tenere alto l'interesse verso un caso, perché diventa uno strumento, diciamo così, di sensibilizzazione delle persone per ottenere che cosa? Per ottenere quello che sarebbe dovuto. Cioè noi qui ci stiamo battendo non per andare sulla luna, ma per avere quelle minime garanzie che anche da codice di procedura penale noi dovremmo avere. E questa è la cosa che mi dispiace, perché io stasera non dovrei essere qui con te a parlare di questa cosa, ma dovrei essere a lavorare sulle carte, avrei già dovuto avere un'autopsia fatta, avrei già dovuto avere dentro di me un'idea e non essere qua a dire io non so dov'è il corpo. Situazione veramente agghiacciante, io me lo immagino anche i familiari, insomma che... Non è facile per loro e poi non è facile comunque neanche per me, per l'avvocato, per la biologa, perché ti ritrovi comunque in situazioni che tu percepisci essere atipiche. Giustamente come ho detto, sicuramente, sicuramente, questa sarà una prepista per tante altre situazioni, perché penso che... È inevitabile. Ma questo è... Siamo sempre alle solite però Lorenzo, perché tu sai bene che per quello che abbiamo fatto anche quest'estate ci siamo sempre occupati di casi che definire complessi non rende l'idea. Allora, per carità, è anche uno stimolo a migliorarsi, uno stimolo a studiare, uno stimolo a portare a casa un risultato che sia, poi anche qui, non di condanna di nessuno, ma di accertamento della verità. Però, ecco, io posso dire che di fronte a questa resistenza rispetto appunto all'autopsia, ma in generale anche, allora, i medici italiani, chi sono? Abbiamo medici di serie A e medici di serie B? Io voglio sperare di no. Certo è che tutti i medici che sono caduti, e anche questo lo vorrei dire, sono medici che avevano un rapporto col paziente, sono medici clinici. Non mi risulta, poi chiedo scusa se mi sto sbagliando, che siano morti epidemiologi, immunologi, sono morti, medici di medicina generale, che è stata una strage, soprattutto in Lombardia, di medicina generale. Siamo sopra i 130 sicuramente, e anche qui va chiesto scusa a tutti i medici di medicina generale, che noi medici ospedalieri a volte abbiamo così, come posso dire, anche un po' snobbato, faccio mea colpa io per prima, perché c'è stata una strage di questi medici, e gli altri che non sono i medici di medicina generale sono i medici clinici. Ora, io a questo punto vorrei pensare che ognuno faccia la sua parte, quindi quelli che si devono occupare dei cadaveri e quelli che devono studiare, anche perché poi io da anestesista rianimatore, una volta che il paziente esce dalla rianimazione, cioè non è che poi io me lo posso inventare, cioè io posso avere l'attack, posso avere gli esami, posso avere le lastre, ma non è che poi io dico, non è come il Dr. House che ti mette lì e lui è il medico che fa le risonanze, le autopsie e il 118, non è così nella vita. Quindi se se chi deve fare la sua parte, poi per mille ragioni, per mille ragioni, non lo fa, rimaniamo noi nelle rianimazioni a lottare contro cosa alla fine, perché poi tu non è che lo puoi aprire a un paziente, cioè vai per presunzione anche, vai in base agli studi che sono stati fatti. Però il dato autoptico, quindi il dato, poi istologico, quindi il vetrino fissato in formalina, tra l'altro anche lì ci sono già le indicazioni di lasciare i campioni in formalina per almeno 48 ore, perché così il virus è certamente inattivato, quindi non è che dici dal microscopio mi rimbalza il virus e me lo respiro, perché è morto per forza e quindi anche queste analisi istologiche sarebbero fatte o immunistochimiche sarebbero comunque fatte in sicurezza e potrebbero apportare un sacco di informazioni di cui ci potremmo avvantaggiare anche noi medici, anestesisti, animatori o i pneumologi o gli internisti o i medici di pronto soccorso, perché potremmo avere delle informazioni più precise. L'ultima cosa, perché poi se no mi dimentico, è che un'altra cosa che è già emersa è che i pazienti per poter avere delle possibilità andrebbero trattati in modo molto precoce a casa, già a casa, già prima dell'aggravamento, perché ricordiamo che il paziente che va in reanimazione è un paziente che di solito ha già avuto a casa un quadro febbrile importante e sono stati portati avanti diversi studi, faccio un nome per tutti, Mario Balzanelli che chi fa 118 lo conosce bene, che su Facebook sta sensibilizzando tanto sul fatto di riuscire a impostare la terapia con determinati farmaci a domicilio proprio per impedire questa evoluzione verso il quadro di insufficienza respiratoria che quando poi diventa di quel tipo che va in reanimazione già assega tanto le gambe, quindi le possibilità di sopravvivere già diminuiscono. A questo punto io mi chiedo, ed è una domanda, tutti quei pazienti che sono stati trascurati o che sono, perché qual è stato anche il problema nelle varie case di riposo, nelle strutture riabilitative, che di fatto, immagina, di fatto non c'è stata una diagnosi precoce di queste persone, per cui ci sono state queste infezioni che sono propagate proprio per vicinanza, proprio per vicinanza di letto, perché poi c'è stata anche tutta la polemica delle varie persone che hanno detto che non ci facevano mettere le mascherine, perché sennò i pazienti si impressionavano. E la sanità, gli tagli della sanità, c'entra qualcosa questa cosa? Io credo che in parte sì, in parte no, cioè io devo avere le mascherine e non le ho perché non si trovano, non può essere colpa di chi fisicamente le cerca ma non le trova, ok? Ma se io le mascherine le ho e ti impongo, diciamo non impongo mai qualcosa di più dell'imposizione, ti dico che tu la mascherina non la devi mettere perché se tu la metti spaventi le persone, perché è girato anche tanto questo, no? Sì, sì, sì. E da fonti attendibili, quindi si continuava a dire ci hanno impedito di indossare le mascherine, adesso ha messo che quelle mascherine chirurgiche fossero più o meno protettive, ma se ti dicono tu non le devi mettere perché se no si scatena il panico, la responsabilità è diverso da quello che io non ho le maschere FFP2, FFP3 e quindi anche volendo non te la posso dare. Se tu invece coscientemente dici tu ce l'hai ma io ti dico che non te la devi mettere perché se no io faccio delle ritorsioni. Allora anche queste dinamiche vanno sapute, ci sono delle azioni, delle operazioni congiunte dei NASI, della Guardia di Finanza in tutto il nord, in cui si è proprio andato, si è andati anche in regione Lombardia a sequestrare i documenti, si è sequestrato, questa è la notizia dei giornali, non sto spoilerando nulla, si è andato, sai che quando parlo delle polemiche, l'articolo dei giornali, la balanzoni, il demonio, la strega da bruciare. Ricordo qualcuno. E c'è stato anche il sequestro di documenti di corrispondenza tra le varie strutture. Allora anche qui la mia domanda molto banale, ti porrei nudo sempre, anche qualche più un'affermazione, però è la seguente. Ma se tu fai un'operazione di questo tipo e quindi vai a vedere le dinamiche delle infezioni, le curve di contagio nelle strutture sanitarie e simili, no? Nell'RSA. Ma poi la domanda è, ma le autopsie, e questa è veramente una domanda, non è ritorica, veramente non la so, se sono state fatte, si faranno, di quelli che sono stati cremati, di quei corti evidentemente no, perché quelli sono già cenere praticamente. Quindi la cosa che mi chiedo è, siamo sicuri che noi stiamo indagando da un punto di vista proprio di attività, di polizia giudiziaria nel modo corretto? Perché la cartella clinica sappiamo bene che è qualcosa diciamo così, che può anche essere, si spera di no, ma può anche essere alterata. Il corpo non c'è, perché è già stato cremato. Allora mi chiedo, da un punto di vista poi reale, concreto, si riuscirà a capire quello che è successo. Poi per carità, venisse fuori che tutti si sono comportati in modo eccellente, ma sono io la prima a essere felice? Perché io qua spero che alla fine di tutto mi vengano a dire, sai che sono stati tutti perfetti e chi può essere più contento di me, da questo punto di vista. Però io vorrei che ci fosse effettivamente un'attività di indagine seria fatta anche con Lorenzo, anche qui un punto fondamentale, con consulenti seri, con consulenti tecnici, quindi medici imparziali e medici che hanno l'intenzione di fare il loro lavoro, soprattutto quando sono consulenti del pubblico ministero, che è quello di accertare la verità e non di avere già... Ti volevo fare la domanda, ora con il discorso che stanno riaprendo le attività, quindi le persone usciranno. Volevo un parere tuo, sei favorevole a questa convivenza? Possiamo stare tranquilli? Questo virus dice che purtroppo c'è sempre, ma quanto veramente... Io ti rispondo, sai che la mattina io faccio la corona stampa sul mio profilo, pochi minuti giusto per... Io ho l'impressione, dopo aver ascoltato di solito le radio e le tv dalle 6, un quarto alle 7, mi faccio un'idea e poi prima di andare in ospedale parlo con i 5-10 minuti, io ho l'impressione che la data del 4 maggio fosse stata già definita indipendentemente da qualsiasi tipo di risultato, cioè si era deciso che il 4 maggio bisognava ripartire e anche io avevo detto, se si è deciso perché l'economia non tiene e quindi indipendentemente da tutto si è deciso che il 4 maggio si dice italiani incrociamo le dita, il 4 maggio riapriamo perché diversamente tra quelli che impazziscono, tra quelli che non hanno più i soldi per fare la spesa, non ci saltiamo fuori, quindi rischiamo un'emergenza socio-economica altrettanto grave, però si ha l'onestà di dire che le cose che si riapre perché non si può più continuare a essere chiusi. La cosa che mi lascia perplessa è, uno, una ripartenza che debba essere uniforme quando la distribuzione, l'epidemiologia del virus non è uniforme perché noi abbiamo regioni disastrate e regioni graziate, che poi anche lì bisognerebbe capire, però i dati oggettivi fanno pensare che effettivamente ci sia una distribuzione diversa. Allora, anche qui, torniamo al punto di prima, quanto abbiamo fatto noi medici effettivamente per conoscere il più possibile di questo virus? Abbiamo fatto abbastanza? O abbiamo le solite incertezze di prima? Allora vai col tuo acilizumab se funziona oppure no, con gli antiretrovirali dell'HIV e poi salta fuori il look montagné che ci viene a dire che però la sequenza di HIV è stata introdotta da una, non si sa bene chi all'interno del virus della SARS e poi l'idroclorochina. Cioè, quello che sappiamo oggi, a due mesi, a due mesi dall'esplosione della pandemia, è effettivamente quello che potevamo sapere dopo due mesi o siamo stati un tantino così morbidi e non ci siamo più di tanto messi a studiare veramente quello che è successo. E lo dico semplicemente per questo, perché quello che succede dopo il 4 maggio lo scopriamo, Lorenzo, dopo il 4 maggio, ma non il 5, lo scopriamo nelle settimane successive. Ora, in molti hanno detto che è quasi certo, non è il mio lavoro quindi io riporto, che ci sarà una nuova ondata in autunno. Certo è che in Cina a un certo punto e in altri stati, che erano più avanti di noi dal punto di vista temporale, ci sono stati dei famosi contagi secondari di rimbalzo, come cavolo si chiamano, dalla riapertura, cioè dalla risocializzazione. Io non credo che in Italia questa cosa non accadrà, perché se è già successa prima in altri posti non vedo perché non dovrebbe succedere da noi. Allora anche qui non è tanto questione di essere favorevoli o contrari, la questione secondo me sta nella chiarezza espositiva delle intenzioni e cioè prendere a un certo punto, usare i mezzi di comunicazione, faccio l'esempio di Conte e a un certo punto dire cuore in mano, come stanno le cose, la motivazione per le quali si sono decise le cose, di modo che almeno le persone, perché le persone quando capiscono dentro di loro come stanno le cose, si fanno una ragione e mi spiego, se tu sai che stai riaprendo il 4 maggio, non tanto perché il contagio è scongiurato, ma per motivi economici per cui tu a un certo punto le persone devi rimandarle a lavorare, allora magari la persona, il padre di famiglia, la madre di famiglia, l'anziano dice oi boh attenzione perché io so che comunque sono ancora esposto alla bocciofila non ci vado perché so che comunque ci vado a mio rischio e pericolo. Se invece il messaggio che si manda è è tutto finito, siamo tornati normali, non c'è più pericolo, le persone dentro di loro ritengono, perché così gliel'hai detta e così l'hanno recipita, che non ci sia più nessun tipo di pericolo e allora si esporranno, è un po' come la storia del mio video cazziatone che l'hanno visto tutti mentre si prendevano l'aperitivo e poi mi dicono due milioni di visualizzazioni, sì ma due milioni di persone l'hanno visto mentre respiravano attaccate in una stanza chiusa, allora cosa me ne faccio io che l'abbiano visto in due milioni, per cui qua siamo e non voglio immaginare che cosa voglia dire eventualmente una chiusura posticcia successiva perché il 4 di maggio non voglio neanche pensare. Voglio dire ma c'è una sorta di comunicazione tra istituzioni e i medici? Guarda io ti posso solamente dire che devo ancora trovare gli anestesisti che siano andati a parlare con la scioltezza con cui l'hanno fatti, allora a parte le liti condominiali tra virologi, infettivologi e anche lì ci sarebbe tanto da dire perché comunque ricordiamoci che le persone che hanno detto che era poco più di un'influenza sono ancora lì che parlano, non so con quale cuore perché io non mi azzarderei, però noi abbiamo assistito, noi ci tolgo io perché la tv sono due mesi, giuro che non la guardo perché mi rifiuto, però per due mesi abbiamo su tutti i talk show perché poi la mattina i telegiornali me li riportano quindi mi salvo a metà perché poi tanto lo vedo a scoprire, queste liti condominiali, questi volano di stracci tra i vari personaggi che sono stati ritenuti, non si capisce poi esattamente in base a cosa, i più attendibili o i meno attendibili, però medici, anestesisti, pneumologi che siano andati a parlare con la stessa possibilità, con la stessa intensità anche proprio in termini di esposizione mediatica, io non li ho visti, anche qui io mi chiedo ma se una patologia ti porta in rianimazione e tu hai questi numeri mostruosi che abbiamo avuto fino a poco tempo fa nelle rianimazioni, ma mi spieghi perché alle ore 18 tutti i giorni ci deve essere l'epidemiologo che un paziente in rianimazione probabilmente perché non è tenuto a farlo, non l'ha mai visto, oppure abbiamo dei numeri che fanno paura ma ci abbiamo pensato che probabilmente c'è un qualcosa che ci è sfuggito e invece no, anche lì le stesse facce ripetute tutte le sere con risultati che francamente penso siano sotto gli occhi di tutti, sono stati lentissimi a dare risultati perché comunque abbiamo visto tutti che anche il numero di morti è sceso ma non c'è stata questa riduzione per cui tu dici ma è cambiata la vita, adesso io quando vedo Borrelli alle ore 18 ho un moto così di felicità e tu guardavi già col Rosario in mano e dicevi oddio quanti sono oggi, eppure anche lì il patentino di affidabilità, tendibilità è stata data sempre a quelle persone però chi era sul campo effettivamente a lavorarci tutti i giorni io personalmente perlomeno non l'ho visto, allora anche qui dico ma va tutto bene perché secondo me non va tutto bene anche da questo punto di vista perché poi alla fine come tu ben sai qua l'unica delimante sono io alla fine, no? Cioè l'unica che continua a dire magari non andrà neanche tutto bene sono sempre io e anche questo non è neanche tanto giusto perché alla fine poi chi ama la Balanzoni le crede e chi odia la Balanzoni non le crede dobbiamo aspettare qualcosa o qualcosa di non positivo? ma secondo me il rischio c'è però anche lì bisognerà vedere il fattore climatico o quanto eventualmente incide quindi il cambio di stagione perché da febbraio adesso è cambiata completamente la stagione e ecco secondo me se andrà bene io mi auguro però credo che sarà più qualcosa di legato probabilmente anche lì poi a come il virus e nessuno lo sa ancora è eventualmente mutato qualora sia mutato e sia mutato in una direzione di minor virulenza di minor capacità distruttiva sull'organismo e scusami l'ultima cosa ho parlato tantissimo stasera scusami anche la storia delle mascherine fino al vaccino allora anche sulla storia del vaccino io mi sono espressa l'altro giorno sul mio profilo personale e io ho iniziato a dire scusate io vorrei sapere però vaccino ma di che cioè prima che si possa parlare di un vaccino per poi magari renderlo obbligatorio e io le ho tutte le vaccinazioni avendo fatto missioni all'estero missioni militari dell'estero le ho tutte quindi io sono una che è assolutamente a favore dei vaccini anche perché ero obbligata a farli quindi fosse stata contraria dovevo ma sono a favore comunque intimamente convinta però su un virus così allora tutta questa fretta di trovare il vaccino mi sta bene nel momento in cui io so contro cosa mi sto vaccinando e non credo che si possa avere un vaccino in sicurezza in breve tempo perché queste cose non vanno d'accordo cioè se tu vuoi avere uno studio serio e vuoi essere sicuro di quello che stai inoculando come vaccino servono proprio dei tempi tecnici di un certo tipo quindi a me preoccupa la facilità con cui si danno delle informazioni mi preoccupa la necessità anche di tranquillizzare perché il proverbio dice medico pietoso piaga purulenta no quindi a un certo punto tu non puoi cercare consenso non puoi cercare di ottenere dei risultati mistificando la realtà perché è più facile dare le buone notizie che le cattive perché se le notizie sono cattive tu le devi dare cattive c'è poco da fare io l'impressione che in questo momento si voglia i cittadini a chi a chi dovrebbero credere anche questa è una bella domanda purtroppo purtroppo i cittadini alla persona che gli sta più simpatica quindi se io sto simpatica al 20 per cento della popolazione uno su cinque crederà a me se io sto antipatica al 90 per cento della popolazione 9 su 10 praticamente penseranno che io sono una pazza e anche questo non deve succedere però anche questo è frutto di una comunicazione sbagliata gestita male che sin da subito è stata gestita molto male sin da subito il primo post che venne fatto al sacco di milano fu devo portare le brioche a quelli del laboratorio e secondo me una persona che dirige il laboratorio non può fare un post la domena prima domenica della dell'epidemia e dire oggi io devo portare le brioche è solo un'influenza perché non funziona così non si può partire così perché se questa è la partenza poi infatti abbiamo visto come siamo rimasti gli ultimi due minuti allora una considerazione come ne usciremo e se ne usciremo due minuti sono troppi perché per dirti che non lo so ho già finito non lo so però vedi io non lo so e ti dico che non lo so non è che dico ah ma racconto la storia dell'orso non lo so io quindi in poche parole detta proprio greve greve e tante super cazzole che poi in poche parole non ci dicono niente sono due mesi che viviamo di super cazzole sono due mesi io a questo punto posso solo dirti una cosa che io io farò di tutto come ho sempre fatto siccome io quando faccio il consulente tecnico lo faccio perché ci credo e non perché devo non vivo di quello io faccio l'anestesista per per vivere per cui posso dire che io spero che dal punto di vista almeno giudiziario si faccia luce sulle questioni e che mettendo a sistema ciò che per via giudiziari riesce a ottenere e ciò che per via scientifica riesce a ottenere a un certo punto si riuscirà ad avere un quadro più chiaro di quello che c'è adesso eh perché adesso è il caos è il è semplicemente il caos bisogna avere anche il coraggio di dirlo però che è caos dottoressa io ti ringrazio ti ho fatto fare il pippone di solito le serie le faccio io no stasera l'ho fatto ma è stato veramente esaustivo è stato veramente adesso vediamo quante querele ho domani lorenzo che ti mando il messaggino con quante querele mi son presa da qua domani non mi batti non mi batti va bene ok ok taglia marucci che l'avvocato è il mio avvocato ok anche a me non mancano però va bene grazie mille va bene grazie per tutto ciò che fa veramente e e buon lavoro grazie un bacione un abbraccio a tutti arrivederci ciao allora è stato bello è stato importante ci ha fatto capire quanto veramente bisogna ancora sapere e quanto ancora purtroppo ci viene leggermente nascosto ma forse per come si può dire per non spaventarci io io sono per ehm per una eh brutta ma vera verità perché purtroppo le le eh purtroppo sono le 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 verità che fanno che vanno avanti bene noi eh io vi ringrazio vi do l'appuntamento a domani mattina su tutte le varie situazioni alle ore undici abbiamo la nostra lettura dei dei giornali quotidiani di destra a sinistra sarò fuori quindi dobbiamo vedere perché tante cose cambieranno forse la mattina non ci sarà più la lettura dei 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 quotidiani ma ci sarà l'appuntamento in diretta con eh un un appuntamento importante come ho detto già quindi non ve la perdete eh quindi che dire sempre più di qualità grazie massimo presidente dell'APIT che sentiremo giovedì prossimo in una nostra bellissima diretta che faremo e quindi che dire io vi ringrazio dalla Iena Scomoda qui noi vi diamo l'appuntamento alla prossima mi raccomando fate bravi eh ciao 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 ciao